ciao a tutti ragazzi ben ritornati sul mio canale e oggi siamo qui in un nuovissimo video per parlare delle entità molto probabilmente che hanno aggiunto qui questo è un troll perché è un troll come possiamo dire allora entity 303 non ha questa skin soprattutto è un'altra cosa che è molto ma molto ma diciamo che gli occhi come potete vedere sono rosso e rosso chiaro ma come sappiamo tutti i colori non sono quelli cioè se facciamo una pixel art gli occhi sono 4 4 cioè un blocco so dobbiamo farne due come quello della skin però sotto altri due quindi ragazzi non mi sembra entity 303 per molti sbagliati motivi entity 303 non può entrare nei server scrivendo come entity 303 entrato dovrebbe essere un'identità che si dovrebbe introdurre nel server senza problemi e soprattutto senza ma senza farsi scoprire quindi ragazzi c'è il dubbio c'è il dubbio che questo sia realmente entity 303 ok torniamo a casa perché qui è iniziato a piovere anche notte corriamo 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 corri ma sei stupido allora oddio che cos'è sto cartello your time is running out entity 303 il tuo tempo ok analizziamo bene il video come possiamo vedere c'è un cartello con sopra entity 303 ma stranamente come fa questo ragazzo naturalmente ha ha potuto vedere dalla schermata potete vedere che ha avuto il tempo per scrivere questo messaggio uscire e rientrare ma ragazzi veramente volete crederci io non ci credo perché al primo episodio quando siamo in trada quando lui ha fatto il primo minuto come possiamo vedere nella mia serie su minecraft adesso oddio sto facendo un po che di casino vi volevo dire una roba un attimo che mi ritorno normale a mamma mia c'è lo what sento sempre questi scheletri ma non li vedo come possiamo vedere non c'è ancora il cartello gigante davanti a voi allora per dare il benvenuto alla pasqua prima siamo me allora prima di tutto mettiamoci delle ceste che sono le robe più importanti io farei una porta qui possiamo scavare un'altra anticamera attorno quando ok io l'ho scavata adesso vuole fare tipo qua una mia prima c'è una delle ma anche io l'ho scavata ora viene il cartello per scrivere il mio era quindi avremmo potuto scrivere senza problemi e qui l'abbiamo fatto ma ora ragazzi secondo me è finito scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo altro video che secondo me non è reale entri di 303 secondo me in questo mondo non c'è allora camera off camera andiamo a dormire ok come possiamo vedere ok come possiamo vedere come possiamo vedere final month final month assemble month ehm io ti do una io ti com ti do perchè a me non dorme aspetta c'è qualco aspetta oh vabbè lasciate prendere eh quitta cosa si sta facendo questo ragazzo non riesce a dormire questo mi ha fatto come non ci sono un po' di terrore perchè non possiamo dormire va bene non dormiamo non dormiamoci perché si sono pagati i letti andiamo a spuzionarsi andiamo a spuzionarsi i mob e Atom rimorirà molto probabile questa volta perchè gli ho detto che deve morire apposta uno zombie con una palla di ferro e se mi do una palla di ferro quindi ragazzi noi andiamo dove c'è entiti sì perchè cazzo stai sotto terra io sì perchè stai sotto terra io stai sotto terra ma fa il culo e questo sì vabbè ciao ciao Atom ciao che cazzo oh che cazzo oh 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 ooo oh niente entiti c'è scritto entiti c'è scritto ora analizziamo entiti no ma ti sto prendendo in giro Attenzione, vediamo che sotto non c'è la lineetta di Entity, quindi possiamo capire che sia stato un trolling, anche se non capisco bene il fatto che loro non potevano dormire. C'è scritto Entity, sottoterra! Analizziamo di un'altra volta, forse non l'abbiamo visto bene. Non ti sto prendendo in giro, c'è scritto Entity! Aiuto, ma mi stai facendo scherzo? Sì, vabbè, ciao! Ciao, ciao! Io posso dire il del banco, lo compuro è il tuo! Eh? Il server è il tuo! Sì, vabbè, è vero, in effetti il server è mio! Vabbè, ragazzi, mi lascia abbastanza perplesso questa cosa, andiamo a controllare! Non l'abbiamo potuto analizzare, ma sotto non c'era bene la linea, quindi secondo me Entity303 poteva essere un altro player, che aveva la possibilità di diventare invisibile. Non mi deve andare a vedere! E ora andiamo! Dai, l'hai fatto te! E ora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate e condividete se non vi siete ancora iscritti. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video! E comunque ragazzi, vi ricordo! Questa cosa lascia abbastanza strana! Se non sei un E, se sei un vero E, ma io non l'ho fatto! Lascia un pollice in più! Ciao! Ciao!